...di continuare la mia preparazione al meglio e poi vedremo come andrà. Ai mondiali l'anno scorso l'Italia si è presentata quinta. Quest'anno serve entrare nei primi otto posti per evitare un girono infernale per la qualificazione a Rio. Quali sono secondo te le attese? Sicuramente tutti si aspetteranno tantissimo. Noi sappiamo solo noi come stiamo e cosa possiamo fare. Ovviamente cercheremo di dare il massimo, però faremo del nostro meglio e come andrà.